What's On! What's On! Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's On! Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Perissetti, al Mao Museo di Arte Orientale di Torino, appuntamento con La Divinazione secondo Li Jing, conferenza in occasione della mostra, Fernando Sinaga, Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti, con Attilio Andreini, del Dipartimento di Studi sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Per Giovedì Scienza, alle 17.45 in diretta streaming, appuntamento con La Scienza cambiata dalle macchine, macchine che decidono, dimostrano, scoprono, con Vincenzo Crupi, professore di Logica e Filosofia della Scienza all'Università di Torino, e Riccardo Zecchina, professore di Fisica Teorica presso il Dipartimento di Computing Science dell'Università Bocconi di Milano. Modera l'incontro Gianluca Dotti. Al Circolo dei Lettori a Torino si parla dell'impatto sociale positivo delle nuove tecnologie con Massimo Lapucci e Ciro Catutto, partendo da Data Science for Social Good, interviene Martina Pennisi, l'appuntamento in collaborazione con OGR Torino e Fondazione CRT. Info su circololettori.it Il Giornale dell'Architettura propone le serate dell'architettura, occasione per presentare nuovi progetti di architettura in corso a Torino, negli spazi del centralissimo Cult Lab Torino. Primo appuntamento questa sera alle 19, con Come coniugare bonus e qualità dell'architettura. Film in lingua originale al cinema Massimo, alle 16, alle 18 e 30, alle 21, La persona peggiore del mondo, in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso 7,50 euro. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez. What's on? What's on? In Piemonte. What's on? Lo trovi anche su zipnews.it